Londra, Justin Bieber presenta in anteprima Believe, il suo nuovo album. Radio Kiss Kiss era lì. Marisol incontra Justin Bieber. What's up guys, this is Justin Bieber on Radio Kiss Kiss. If I was your boyfriend, I'd never let you go. Play everywhere. Su Radio Kiss Kiss, ascolta l'intervista in esclusiva venerdì 4 maggio alle 16. All right, let's go. Su KissKiss.it, dalle 17, guarda il video integrale dell'incontro e condividilo con tutti i tuoi amici. Thank you so much for having me. Justin Bieber, con Radio Kiss Kiss. Play everywhere.